E' stata una domenica tragica nelle colline di Candelara, qui dove ci troviamo oggi in strada Molino Mosca. Ieri ha perso la vita il pensionato 72enne Gianfranco Sorcinelli, residente proprio in questa strada della frazione pesarese di Candelara. E' morto dopo un incidente con la sua motozappa con la quale stava effettuando dei lavori agricoli nei campi circostanti la sua abitazione, campi coltivati a ulivi e vigneti. Una morte sopraggiunta poco dopo le 13 per una tragica fatalità. L'uomo infatti stava lavorando sul macchinario agricolo e in una fase di retromarcia non si è accorto di un albero che era alle sue spalle e ha finito per perdere il controllo del mezzo agricolo con il manubrio del mezzo che ha finito per fare pressione sullo sterno di Sorcinelli, finendo per schiacciarlo fatalmente contro la pianta alle sue spalle. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato uno vicino della abitazione di Sorcinelli che ha udito delle grida e ha udito anche il rumore costante del macchinario agricolo quando invece si presupponeva una sonorità più intermittente per il tipo di lavoro da effettuare in questi campi. E invece c'è stato il drammatico ritrovamento dell'uomo riverso a terra con il macchinario agricolo ancora in funzione. Sul posto polizia, vigili del fuoco e ambulanza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta di un altro incidente a distanza di qualche mese, di quello avvenuto a maggio nelle campagne di Fano. Anche in quel caso un pensionato di oltre 90 anni finì per perdere la vita in un incidente davvero molto simile.